Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amaci Casa, ci troviamo adesso nel punto vendita di Roma a Largola Loggia 1, numero 1. Stiamo vedendo, stiamo visionando una cucina di Stossa Cucina, il modello che si chiama Allegra. È un modello che si caratterizza innanzitutto, come potete vedere, con un'altra piuttosto lineare, un bel colore lucido, e poi viene accompagnata anche da questa tinta color castagno in essenza grigia e quello che caratterizza di più la cucina sicuramente è questa gola che accompagna le basi e anche la divisione fra i cassetti e i cassettoni. La cucina è una cucina estremamente moderna, attuale, d'altra parte la Stossa Cucina ci ha abituato a questo tipo di prodotti. È un'azienda che lavora bene, è un'azienda della migliore tradizione italiana. Cosa dire? Innanzitutto, ecco la cucina, questa qua che presentiamo qua è abbastanza completa, vedete per esempio qui la lavastoviglie, ha questo interessantissimo lavello ad angolo con due vasche di differenti dimensioni e un gocciolatorio. Poi, come vedete, sia nel pensile ad angolo, che in questo caso è uno scolapiatti, perché evidentemente siamo sopra la lavello, che si apre e evidentemente si avranno tutti e due leante, che sia la base, hanno delle comode cerniere da 180 gradi che consentono di avere un'apertura completa degli sportelli. La cucina evidentemente poi si completa, è la classica strutturella, si completa con questo frigorifero. Guardate che bella, che simpatica l'idea di creare la gola sul fianco della colonna. La cucina l'azienda ce la propone in differenti colori, in differenti tinte, in differenti proposte ed è presente nei nostri due punti espositivi Amaci Casa di Roma, nello specifico parliamo di Largo la loggia numero uno. Grazie per la vostra disponibilità, per la vostra simpatia sempre nell'ascoltarmi e a risentirci alla prossima volta.